E' finita in scontri tra polizie e manifestanti la mobilitazione promossa a Rio de Janeiro per protesta contro i tagli alla spesa pubblica previsti sia a livello di Stato che a livello federale e destinati a ripianare l'enorme buco causato dalle Olimpiadi. Sempre a Rio, la polizia ha arrestato diversi manifestanti accusati di avere dato inizio agli incidenti. La protesta si è svolta in tutto il paese con manifestazioni in 18 stati, in molti dei quali si è registrato il blocco dei servizi pubblici. Se lo Stato di Rio de Janeiro ha problemi finanziari, perché non smette di ridurre le tasse alle spa, alle gioiellerie, ai grandi ristoranti? Forse perché sono amici loro? La tensione sociale in Brasile è tornata a essere altissima dopo che il nuovo capo dello Stato ha introdotto forti vincoli alla spesa pubblica per i prossimi 20 anni, tali da rendere impossibili i programmi sociali per la riduzione delle diseguaglianze.